La comunità fa parte di un programma di costante controllo del territorio a cui giornalmente il Radio Mobile di Disi è chiamato a rispondere, intanto per garantire sicurezza ai cittadini, intanto per cercare di frenare questo fenomeno che ormai è un fenomeno dilagante tra i ragazzi, anche tra i giovanissimi, per cui cerchiamo attraverso le nostre risorse di venire sempre a capo del problema, attraverso anche il fermo o l'apesto di ragazzi che si rendono responsabili di detenzione sul spazio.